di maru tv oggi faremo una serie di matcha ma purtroppo non sarà su sopravvivenza la creativa ma solo quella serie farò con un mio amico Giovanni che è un canale Giovanni Cossa andate a iscriversi al canale e perché faremo un film cosa è un paziente perché qua voglio fare le mie costruzioni più numbele può anche fare multidocadore partita multidocadore amici di amici sono amici sono inviti un po' che ci mi amici è un po' che ci mi amici seme giù quindi cre no non voglio mettere immediata non voglio mettere non voglio mettere non voglio mettere non voglio mettere un po' che ci mi amici non voglio mettere un po' che ci mi amici non voglio mettere sta caricando sta caricando ed è un avendo un dialetto di me ci mi amici non è un dialetto quando si carica sta tanto perché non sta caricando sono un po' stanchino perché sono appena arrivato da scuola nuovo venerdì e da oggi mi dedicherò proprio su l'altra volta l'altra volta oggi è un video forse mesi allora mi do mi do mi do mi do la sensibilità prima dovevamo devo pure invitare giocatori ah così amici offline sono tutti offline ma devo un dunne perché so poco perché è lag non so ecco to chiaro sensibilità o se sa io sto io sto io sto io devo sensibilità ero tipo un po' troppo faccio un po' troppo faccio un peggio rinfinito è oltre un po' troppo 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 di un po' troppo un po' troppo un po' troppo Grazie a tutti. 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 Mi sono dotato di una pala di diamante potenziata. potenziata.